L'indicato Stefano Garzelli che sapete gareggiare proprio con l'istima abruzzese acqua e sapone e caffè Mocambo. Eccoli i ragazzi della categoria G6 che stanno concludendo il primo giro e naturalmente la raccomandazione a tutti quelli che stanno a vedere che possono stare dietro le tante anni, non in mezzo alla strada. Grazie.